benvenuti ragazzi io sono benvenuti in basso 08 oggi siamo su uno un gioco di carte che tanti conosceranno e voglio fare una la facciamo sul computer il gioco e voglio fare una partita il classico inizia 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 ok 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 un nuovo episodio e gioca sia un giallo nisco un momento un giro che cosa vuole che cosa vuole ok e le faccio un nuovo ok 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 Grazie. 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 fare domani perché ho fatto oggi un video così a caso uno per sapere cosa vuole fare registrare va bene e niente ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi